Voli a via che è sempre un bene quando va Avrete la verità e il senso di questo non va Però la dignità, dove la gente pensa E se per sopravvivere, la luce e la morteria La tratta è che succede di me, dove scopo via No, 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 no Grazie per la visione!